SOS squali. Negli ultimi 50 anni la popolazione di questi predatori negli oceani è diminuita del 70%. I cambiamenti climatici ma anche la pesca intensiva ne mettono a rischio la sopravvivenza. Perla di poppa. Creature enigmatiche e maestose nuotano negli oceani da 400 milioni di anni. Sopravvissuti ai dinosauri, gli squali rischiano di essere spazzati via dall'uomo. Denti a guzio, olfatto infallibile, corpo perfettamente idrodinamico, una pessima fama di cacciatore sanguinario. Eppure lo squalo non mangia la carne umana, il più temibile tra i predatori siamo noi. Quasi 100 milioni di esemplari uccisi ogni anno, una strage, la zuppa di pinne, piatto amato in tutta l'Asia e tra le ragioni di una caccia senza controlli. E poi la cattura accidentale in reti da traino e palangari. Ma decimare di squali e anche il cambiamento climatico, la distruzione delle barriere coralline, causata da agenti chimici e riscaldamento dell'acqua, fa sparire le prede di cui si nutrono. Martello, smeriglio, pinna bianca oceanica. 465 specie diverse, sempre di più fa sapere il WWF, quelle a rischio istinzione. In cima alla catena alimentare, lo squalo è fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema marino. A far davvero paura non è il suo morso, ma trovarsi un giorno con un oceano senza squali. Un po' snob e cattivista.